Le vibrazioni, sento sulla mia schiena tutti i pensieri, con me torrenti. Siciliana di Sciacca, da quattro anni a Milano dopo aver girato il mondo, trascinata e legata da un denominatore comune, l'amore per la musica, che è la portata dall'America all'Oriente, che ora all'ombra della Madonnina, regala a Tiziana Sinagra una nuova e più reale dimensione. Una voce, un rugito di passioni, senza dimenticare il proprio legame con il Sud, ma con uno sguardo rivolto al mondo. Il Sud è energia, è solarità, è positività, è passionalità. Credo che io mi ci vedo molto in questi ingredienti e quindi mi sento bene così perché le ho ereditate dalla mia Sicilia, quindi è la mia terra. È normale che comunque prediliggo il genere un po' americano, no? Blues, rock, soul, avendo anche un po' una voce che bene si sposa con questo genere, ma credo che è giusto avere un'infarinatura di tutti i generi, perché bisogna ascoltare, ascoltare tantissimo, perché da qualsiasi genere si può imparare parecchio. Grazie. Grazie. Grazie.